A distanza di oltre 16 anni dal crollo di una parte dei rifiuti che decretò la chiusura della discarica alla Torre a Teramo e che portò a diverse inchieste giudiziarie sia su quell'episodio sia sui successivi interventi rimessi in sicurezza, entro i primi mesi del prossimo anno l'area intestata sulle colline al ridosso della città sarà totalmente bonificata. La scadenza salvo imprevisti è dettata dai tempi della procedura appena conclusa per l'appalto dei lavori. Prima di Pasqua partiranno le lettere di invito alle ditte cui l'ente chiederà di presentare un'offerta per la realizzazione dell'intervento. Nella selezione saranno coinvolte non meno di 10 società per i lavori da 2,7 milioni di euro e verrà scelta quella che avrà presentato la proposta economica più vantaggiosa per il comune. È di fatto avviata, attendiamo le ultime formalità, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, un risultato straordinario, abbiamo ottenuto le risorse in pochissimo tempo, abbiamo aggiunto con risorse nostre la copertura integrale dell'intervento che è di circa 2 milioni e 700 mila euro a valere sui fondi masterplan che abbiamo ottenuto nel dialogo con la precedente giunta regionale e che poi abbiamo portato avanti con un progetto che ci ha condotto all'approvazione dell'esecutivo che abbiamo validato e oggi finalmente in questa fase prima di Pasqua partirà proprio ufficialmente la gara con l'obiettivo di aprire il cantiere nel corso di questa estate e di chiuderlo nei tempi appunto previsti. Un risultato veramente straordinario, storico direi per la nostra città perché risolve un problema ambientale enorme che si trascina dal 2006 e anche di carattere economico. Ricordiamo che la gestione scriteriata della vicenda di scarica è costata ai cittadini terramani tantissimo in termini di smaltimento del percolato.